Ma un grande gruzie a tutti i miei amici in Italia. Una candela brilla intensamente per il popolo italiano e tutti gli amici di lingua italiana, tanto colpito di questa malattia. Noi siamo con voi, qui da Norimberga e da tutta la terra. Ich bete. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timor? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi, di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu, il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Sion ha detto, Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? E anche se ci fosse una donna che se dimenticasse del suo bambino, io invece non ti dimenticherò mai. Io sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera, sperate nel Signore. Sii forte, si rinfranchi il nostro cuore. Sì, sperate nel Signore. Noi tutti siamo uniti nella preghiera. Sperate nel Signore. Sperate nel Signore.